Con l'ultimo aggiornamento previsto, entra a pieno regime Public App, l'applicazione digitale informativa dell'amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana. È possibile trovare anche sull'app tutte le informazioni che riguardano il mondo della scuola a Montesano, menu mensa, orario e percorsi dei trasporti scolastici, eventuali ordinanze di chiusura delle scuole, corsi serali, eventi, manifestazioni, contatti e molto altro. La sezione dedicata alle scuole sarà curata direttamente dall'assessore comunale all'istruzione Marzia Manilia. Offriamo un ulteriore spazio informativo di carattere immediato alle famiglie affinché possano costantemente essere a conoscenza di tutti i servizi di competenza comunale effettuati quotidianamente nelle scuole, ha dichiarato l'assessore Manilia. Con l'app i genitori potranno conoscere il menu della mensa del giorno, gli orari dei pulmini ed immediatamente se questi hanno un problema o per cause diverse non effettueranno il giro di andata o ritorno. In un comune montano come il nostro alle prime ghiacciate e nevicate diventa fondamentale e sicuro sapere subito se le scuole sono aperte o meno, se il pulmino effettua il giro o non riesce, se la mensa si tiene regolarmente o meno. Con questo nuovo aggiornamento, a concluso, le informazioni sulla scuola di Montesano diventano a portata di mano. Si realizza sempre più il concerto di Smart City che come intera amministrazione stiamo portando avanti in tutti i settori. Sull'app, oltre alle informazioni sulla scuola, si troveranno notizie sulla vita in generale del comune, avvisi di protezione civile, segnalazioni, chiusura a strade, il diario sulle vicende eterna condotto dal sindaco ed altro. L'app è facilmente scaricabile da App Store per iOS e da Google Play Store per Android.